Novello Novelli, il toscanaccio del cinema italiano A partire dagli anni 70, la Toscana ha sfornato diversi talenti per il cinema italiano, tra attori, registi e sceneggiatori. Si pensi a Roberto Benigni, Francesco Nuti, Alessandro Benvenuti, a Tina Cenci, in realtà i tre hanno anche formato un trio comico, i Gian Cattivi. E poi dagli anni 90 sono esplosi talenti come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. E, ancora, Massimo Ceccherini, Paolo Endel, Giorgio Ariani. La storia di Novello Novelli Novello Novelli, all'anagrafe Novellantonio Novelli è nato a Poggi Bonsi, in provincia di Siena, il 2 marzo 1930 e Ivi morto il 10 gennaio del 2018. E, stato un attore e impresario teatrale italiano. Dopo aver lavorato come geometra, si dedicò allo spettacolo come impresario dei fratelli Mario e Pippo Santonastaso, coi quali girò tutta Italia. Debuttò come attore cinematografico nel film Ad Ovest di Paperino, del 1981, dopo una lunga presenza all'interno del teatro Metastasio. Finì per lavorare con i corregionali, molti dei quali già citati, Alessandro Benvenuti, Francesco Nuti, Atina Cenci, Ornella Muti, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Alessandro Paci e il cantautore Fabrizio Venturi. Oltre ai loro film, va ricordato anche in altre pellicole come Cari Fottutissimi Amici, 1994, tra gli ultimi film del maestro Mario Municelli. E Miracolo Italiano, di Enrico Olduini, sempre del 1994. In totale, apparirà in quasi 40 pellicole, apparendo praticamente ogni anno in qualche film tra gli anni 80 e 90. Ma anche negli anni 2000 saranno diverse le comparse. L'ultimo film dove apparirà sarà Uscio e Bottega. Regia di Marco D'Affra, 2014. Per il piccolo schermo, invece, figurerà in 12 serie TV, tra cui le popolarissime Don Matteo e i Cesaroni. Oltre al cinema, era uno dei soci fondatori della Fondazione dei Maledetti Toscani, oltre che allenatore dell'omonima squadra di calcio. Le critiche della figlia Grazia a Leonardo Pieraccioni e... Quando Novello Novelli morì, fece il giro del web Lo sfogo della figlia Grazia. Ringraziamo le tantissime persone sincere che hanno portato la loro partecipazione. Ringraziamo un po' meno le persone come il signor Pieraccioni e il signor Conti. Non si sono fatti più sentire da un decennio, neanche ieri, ma hanno diffuso senza alcun diritto una notizia che avremmo gradito mantenere il più possibile riservata. Dunque, la figlia Grazia ce l'ha con loro poiché, ormai all'apice della loro carriera, non si sono più interessanti di Novelli. Ma ne hanno riportato per primi la notizia sui social malgrado il disappunto della famiglia. Quando si dice che il successo cambia. E tu? Conoscevi la storia di Novello Novelli? Ti piaceva come personaggio? Lascia un commento, un like e iscriviti al canale. Grazie